Promotrice dell'evento, Romina D'Addazio, come nasce questa idea? Nasce per, come dice la parola, femminile in pista, per convogliare tutta la famiglia all'interno di quella che è una passione comune, magari il motorsport, quindi all'interno di una pista, di un cartodromo. Perché questa iniziativa? Fondamentalmente per sensibilizzare alla sicurezza stradale, però facendola in maniera alternativa, non attraverso le forze dell'ordine, diciamo così, ma attraverso un percorso di racing, cioè facendo vedere a questi ragazzi quello che possono fare in pista e in sicurezza. Poi è un progetto molto ampio perché comunque abbiamo coinvolto le scuole, gli istituti tecnici, industriali, professionali. Con noi c'è il partner importante per me perché è il Politecnico delle Marche, c'è un pilota importante di Formula 1, quindi il terzo pilota Ferrari, questo è un orgoglio per il nostro progetto. C'è anche un pilota disabile che guiderà un kart per i normodotati, quindi ancora di più l'impegno che mettiamo in questo progetto. Un evento questo che è anche una vetrina per gli studenti? Sicuramente, Formula 6 è un progetto che valorizza molto lo studio e la progettazione di auto a corsa e soprattutto dà la possibilità di mettere in pratica quello che gli studenti soffrono sopra i libri. Grazie al Family Day possiamo farci vedere in un bacino più ampio che è quello dell'università e per i ragazzi che partecipano è sicuramente un punto di forza. La regione sarà al fianco nella genesi di questo percorso anche perché la regione è scesa in campo da pochi giorni, quindi su questo sicuramente avvieremo una discussione produttiva che ci vedrà al fianco dei nobili organizzatori nei prossimi mesi.